Ermo Dastolfo che è portavoce Comferra, Comitato Chieti Manopello, si torna a parlare ancora una volta del raddoppio della Ferrovia Pescara Roma, un progetto che così come non piace ai comuni interessati, non piace a molti residenti e oggi pomeriggio ci sarà una grande manifestazione a Chieti a partire dalle ore 18. Sì, una manifestazione che raccoglie le proteste di tutti i comitati e quindi il luogo centrale Chieti, Chieti Scalo, Piazzale Marconi ore 18, dopo che non abbiamo purtroppo trovato un accordo con RFI. Cos'è che non vi va bene di questo progetto così com'è? Basterebbe osservarlo da parte di chiunque, ovviamente a noi cittadini della Val Pescara, Brecciarola, Chieti, Chieti Scalo, Manopello ovviamente, non va bene la dispendiosa opera che investe tutto il territorio e quindi distrugge oltre 100 abitazioni civili, oltre anche a fabbricati di attività produttive eccetera. Non va bene ovviamente la viabilità annessa a questo raddoppio del tracciato ferroviario e quindi la divisione, la definitiva separazione della città di Manopello per esempio in tre parti con dei sottopassi e una viabilità automobilistica che è assolutamente inaccettabile. L'appuntamento è dunque oggi pomeriggio con gli amministratori, i residenti, Piazzale Marconi ore 18? Sì ore 18 e da sottolineare il fatto che siamo tutti d'accordo, nel senso che c'è una visione ormai globale di questo progetto che prima è stata diciamo così analizzata e esaminata insieme con tutta la buona volontà, visto il loro atteggiamento molto istruzionistico negli ultimi giorni a questo punto dobbiamo passare dalla proposta alla protesta. Prossimo passo? Prossimo passo il via, il comitato di valutazione ambientale con la speranza che chi siede a Roma ci possa dare una mano concreta.